Ciao! Bentornati o benvenuti nel canale. Oggi vi vedete molto contenta perché in questo video diamo il benvenuto ufficialmente all'autunno, ai Bear Mons. Faremo la full bucket list, sarà veramente il primo di una lunga serie di video che vi accompagneranno, spero, per tutto questo periodo dell'autunno, dell'attesa poi per il Natale, quindi l'inverno. Vivo settembre come l'inizio dell'anno, fatemi sapere voi come la vivete e soprattutto settembre, ottobre, novembre e dicembre sono il mio periodo preferito di tutto l'anno, sono il periodo che, cioè è il periodo che aspetto di più e che non vedo l'ora che arrivi, tanto che poi quando si tratta di febbraio e marzo sono anche abbastanza triste, ma ci penseremo più avanti. So che chi già mi segue e siete tantissimi condividono questa passione con me, una buona parte, e se condividete anche voi questa passione vi consiglio assolutamente di iscrivervi al canale, controllate se già non l'avete fatto, anche perché tra poco ci sarà lo speciale 400.000, mi sembra assurdo e sarebbe bellissimo per me raggiungere questo traguardo nel mio periodo preferito dell'anno. Scusate se mi sentite un pochino ancora malata, ma mi sono rovinata le ultime vacanze esattamente malandomi e quindi mi sto riprendendo, questo è il primo giorno in cui mi sento effettivamente meglio, ma qui accanto a me ho tipo 300.000 medicine che dovevo prendere questi giorni, pacchi di caramelline al miele, so yeah! Sono tornata a Roma da due giorni, anche se voi vedrete questo video, è esattamente il 5 settembre, quindi il primo bear month sarà iniziato. Che cosa sono i bear month? Per chi non lo sapesse, ovviamente è una cosa molto semplice, perché settembre, ottobre, novembre, dicembre finiscono tutti quanti con bear in inglese, quindi settembre, ottobre, novembre, dicembre, vengono quindi chiamati i bear month. Poi io spero, e negli anni ho anche avuto delle persone che mi hanno scritto questa cosa, di far venire, di far vivere la magia, di far venire con lo spirito autunnale, natalizio che io vivo, anche nelle persone che magari non lo vivono, che non l'hanno mai vissuto, che non hanno mai apprezzato questi mesi, soprattutto di solito sono le persone che amano l'estate proprio alla follia, è il loro periodo preferito e quindi vivono l'autunno come la fine. So che alcune persone, grazie proprio ai miei video, alle fall bucket list, alle winter bucket list, a tutti i calendari dell'avvento, e tutti i contenuti che porto durante questi mesi, si sono ricreduti, hanno cambiato idea e adesso sono parte del nostro gruppo, quindi sono molto contenta di questo. Oggi iniziamo subito a scrivere la fall bucket list, per chi non lo avesse mai visto questo tipo di video, l'anno scorso tra l'altro non ho fatto la fall bucket list perché sapevo che mi sarei operata i primi di novembre, quindi mi manca e non vedo l'ora di iniziare a farla, questo è il mio quadernino delle to-do list, e vado subito a scrivere con un bel pennellino arancione fall bucket list, e poi qui nei vari quadratini metterò tutte quante le cose che voglio fare, quindi all'interno di questa lista metterò tutte quante cose che voglio fare nel corso dell'autunno. Ovviamente vi invito a farla anche voi, metterò su Instagram nelle storie una lista che voi potete screenshotare e riempire, così che la potete poi salvare nel vostro telefono e spuntare ogni volta che avrete fatto qualcosa. Io farò alcune cose qui su YouTube, quindi alcune cose che sono nella mia lista le vedrete, le faremo insieme magari nei vlog o in altri video, altre cose probabilmente le condividerò direttamente su Instagram. Inizio a mettere le prime cose che mi vengono in mente, ma voglio fare anche una storia su Instagram dove vi chiedo dei consigli di che cosa potrei inserire nella fall bucket list di quest'anno, così anche voi quest'anno parteciperete alla lista a tutti gli effetti. Io di solito cerco anche su Pinterest, proprio scrivo fall bucket list, sicuramente facciamo un bel shopping autunnale, fare tipo le tappe dei miei negozi preferiti, soprattutto per quanto riguarda l'home decor, e a proposito di home decor, decorare casa e decorare The Beauty Office 3.0, sarà la prima volta. Tra l'altro se non avete visto il tour del Beauty Office lo potete vedere sul mio canale perché è online. Primo PSL della stagione, sarà il primo di molti, però il PSL è il pumpkin spice latte, è una bevanda che fanno da Starbucks, ma non solo, forse uno dei più buoni pumpkin spice latte che ho bevuto è stato in Campania, al Giardino delle Zucche. Sono due anni che vado al Giardino delle Zucche, vorrei andarci anche quest'anno per il terzo, però quest'anno se riesco vorrei portare anche Nicola. Comunque lo scrivo il Giardino delle Zucche. A proposito di zucche, voglio assolutamente cominciare ad inserire qualcosa di food. Io adoro cucinare e quest'anno l'ho fatto veramente troppe poche volte, anche se tipo oggi ho delle cose che voglio cominciare a fare. Fare almeno cinque ricette autunnali e posso subito scrivere cinnamon rolls e il banana bread. Anche qui se avete consigli, datemeli. Vorrei fare una bella biciclettata in un parco in pieno autunno. Ah, festeggiare, quindi metto direttamente la festa del ringraziamento, che anche questa l'anno scorso sempre per la mia operazione è saltata e ci tengo tantissimo a farla quest'anno. Vediamo un po' qualche ispirazione. Questa qui ad esempio è una full bucket list fatta ad immagini. Apple piking. Ok, questa non è proprio semplice. Bere il sidro di mele. Non so se mi piace questa cosa, però potrei mettere e mangiare la mela caramellata, che è una cosa che non ho mai mangiato e credo potrei trovare a New York. Quindi, mettiamola. Cavolo, un fallo sarebbe bello, però non è facile da organizzare. Fare gli s'mores, visitare una casa stregata. Ah, bruciare le candele autunnali, oddio sì. Ah, sapete anche cosa? Primo bagno nella vasca. Allora, tra tutte le cose che leggo, una che continua ad ispirarmi tanto è questa. Have a bonfire. Quindi quasi quasi lo vorrei mettere e poi comunque trovare il modo di farlo. Ok, adesso è arrivato il momento di chiedere un po' alla community. Il mio nerino intanto si è trovato un gran problema, perché ieri la lavastoviglie non è partita. Il problema è che ovviamente era tutta piena di piatti da pulire, che adesso sono stati messi tutti quanti là. Ha scotato tutto qui, tipo domino. E adesso sta cercando di capire un po' la soluzione. Intanto ne volevo approfittare per ringraziare lo sponsor di questo video, che è La La Lab, e che come sempre fa parte della mia faux bucket list stampare tutti i ricordi dell'estate, prima di che mi ne dimentichi, insomma. Soprattutto perché quest'anno ho fatto tanti viaggi e alcuni anche in primavera che non avevo ancora stampato. Quindi ne ho approfittato con la collezione Bohemian. La La Lab, per chi ancora non lo conoscesse, è un'applicazione che vi permette di stampare le vostre foto e trasformarli in ricordi tangibili per non dimenticarli, anche perché si tendono a fare veramente tantissime, tantissime foto in video, però ci mettiamo veramente a riguardarle negli album del telefono? Io no. Mentre avere tutte quante le foto e pensare che un domani andremo a sbirciare insieme con anche tutta quanta la famiglia, è una cosa che mi piace tanto. E ci sono diverse tipologie di box che si possono stampare, di fotolibri, ci sono anche delle chicche, soprattutto raga questa volta ho ordinato una cosa che rimandavo da un sacco di tempo e secondo me è un'idea regalo bellissimo, soprattutto se avete dei compleanni speciali, degli eventi, delle ricorrenze, degli anniversari. Questa è una cosa veramente stupenda che dovete assolutamente prendere. Vi lascio qui il codice sconto che vado un attimo a vedere, dovrebbe essere delle di 30 per il 30% di sconto che potete utilizzare a partire da adesso sull'applicazione. Di solito per i fotolibri faccio dei fotolibri dei viaggi. C'è scritto davanti? Here comes the sun, come la famosa canzone. E qui ho stampato Londra 2023, che è stato uno dei miei viaggi preferiti quest'anno e ho iniziato mettendo una mappa, in più potete anche i fotolibri personalizzarli con le scritte, quindi qui ho scritto proprio Londra 2023. Qui ci sono tutte le nostre foto, ci sono anche un sacco di foto di cose che abbiamo mangiato. Tutto, tutto, tutto. Questa è la classic box, questa è la biggie box. Inizio da questa qui, vedere il design che è bellissimo. Io non lo so, mi piace tantissimo, lo vedo timeless. La qualità poi è altissima anche della stampa, delle foto. Io ho scelto di farle tutte quante lucide, ma si possono fare anche opache. Ho stampato le vintage e siccome si possono personalizzare qui sotto, potete sappiatelo, sia scrivere delle cose, ma anche usare le emoji. E tipo qui ho messo semplicemente un'onda. Personalizzarle con, ad esempio, i cuoricini. Alcune cose ci sono sempre, altre fanno parte della edizione limitata. Qui ho stampato praticamente tutte le foto della nostra crociera che abbiamo fatto quest'anno, con tutte le varie tappe. Questa è una delle stampe speciali, che sono disponibili soltanto adesso, nella collezione Bohemian. Eravamo a Genova, dove abbiamo montato le trofie. Carino, ce ne ho dato anche gli adesivi. Io? In quest'altra qui, appunto, che è la classic box, ho fatto le classiche foto. Io anche vedo che avevano i miei, no? Senza bordi, senza niente. E ne ho fatte varie. Nella prima parte dell'estate, qui era la prima di questo mondo non mi renderà cattivo, di zero calcare. Ma anche tipo fotografo dei look che mi va di avere. Qui ero a Chicago a vedere delle opere che mi sono piaciute tantissimo. Altre foto da Chicago. Che poi voi, mentre vedrete questo video, io sarò a New York. La prima volta che ho fatto provare a mia sorella il bubble tea. O anche tipo io e mia sorella che facciamo skincare insieme. Un botto, un botto di ricordi che so che amerò riguardare tra qualche tempo, soprattutto più passeranno gli anni, più amerò. Non è finita, perché ho fatto un ordine veramente grande questa volta. E ho voluto stampare anche photo strip. Il minimo è 5 e le tappe della crociera erano 5. Quindi le ho divise per le tappe della crociera con 4 foto per ogni tappa. Sottoscritto Genova 2023. Ve le metto vicino perché magari volete vederle. Questa è Marsiglia. Questa è la prima tappa ed è Palermo. Valencia. Forse, forse la mia tappa preferita, Ibiza. La cosa più speciale che ho preso dalla Lada questa volta si chiama Kit Album Fai Da Te. Con tutto il kit, cioè non so se ci stiamo capendo, forse non ci stiamo capendo. E ovviamente le foto che decidete di stampare. Dovete sapere che quando siamo stati a Londra io e Nicola ci siamo portati una macchinetta usaggetta di quelle di una volta. E abbiamo detto vabbè proviamo, vediamo quello che viene e poi facciamo sviluppare il rullino. Il rullino ce l'hanno dato in maniera digitale. Anche perché stampare quelle foto in maniera fisica sarebbe costato quasi come tutto quanto questo kit. Quindi non aveva senso. In quante foto si vede il nostro dito sull'obiettivo? Pensavo peggio, dai. Ho fatto tutto quanto con il bordo bianco. Sono tutte queste qui. Mi vado a bellissimo perché poi pensavo di essere super, cioè di aver centrato Nicola mentre gli facevo questa foto. Gira. Invece la realtà è diversa, no? Perché non puoi vedere bene che cosa stai scattando. Questa ce l'hanno fatta benissimo. Quale? Quella delle bici nel quartiere nuovo. Qui siamo alla famosa porta di Notting Hill che purtroppo ha perso tutta la sua magia ma non fa niente. Questa è fatta in metro. Questa l'ho fatta a Nicola mentre dormiva. Questi siamo noi e i signori ce l'hanno fatta anche in orizzontale questa foto. Questa me l'ha fatta Nicola con il suo dito. Però secondo me anche il dito. Papà, è giusto. Papà, cioè aggiunge quella cosa vintage, capito? Hai visto quella, sto per andare a un party? Sì, sì. Vado a un party a di nuovo. Sì, questo era il nostro albergo orrendo. Vecchio, sì sì, in totale stile a Nino anche. Altro dito, sì. Questo è gigantesco. Questa è una mano. Allora, nel kit vi arrivano i pennarelli e devo dire che hanno anche delle colorazioni interessanti. Un sacco di adesivi. E questi che sono degli stencil sticker oro. E questi sono degli angoli adesivi. Ho infilato la foto nell'angolino. Che da quest'altro lato è adesivo. Si attacca perfettamente sulla pagina tenendo la foto. È una cosa troppo carina e vi permette attorno poter scriverci quello che vi pare. Qui più siete creativi vi esce fuori un album veramente bello. È una cosa troppo bella che volevo comprare da un sacco di tempo ma non trovavo mai l'occasione speciale. Bene, io ho finito. Vi ricordo il codice sconto delle D30 se volete prendere qualcosa sulla LaLab. Vi ricordo che se volete prendere qualcosa della collezione in edizione limitata ovviamente il tempo stringe perché poi questi design non ci saranno più. Però potete utilizzare il codice su tutto quello che volete. Adesso torniamo al video però spero che le cose che vi ho fatto vedere vi piacciono. Io sono particolarmente casata per questo video. Mi sono spostata nel regno della cucina per andare a vedere un po' che cosa mi avete suggerito finora su Instagram. E nel frattempo vado ad aggiungere, non mi ero dimenticata di scriverlo prima, stampare i ricordi dell'estate. E quindi vado anche a segnarlo. E' una cosa super soddisfacente. Spero di spuntare tutte le cose che ho scritto finora. Andiamo a leggere qualche consiglio. Andare in un campo di zucche, e l'ho già messo, visitare un borgo medievale. Questo potrebbe essere interessante. Però magari consigliatemi qui su YouTube quale, così magari lo mettiamo nella lista per maniera più specifica. Questa qui mi piace tantissimo, calpestare le foglie croccanti. Croccanti rende perfettamente l'idea. Poi alcune cose di cibo, quindi cappuccino con il latte vegetale di castagne. Mangiare il riso alla zucca, fare il pumpkin spice latte in casa. Andare in un negozio tutto a tema Halloween e comprare tre oggetti per decorare casa. Amore, altro che tre oggetti qua, non avete capito che cosa diventerà la mia casa in questo autunno. Cucinare un menù autunnale, allora un menù intero sicuramente lo farò al ringraziamento. Per me questa full bucket list è settembre, ottobre, novembre. Quindi il ringraziamento ci rientra tutto. Fare un viaggio in uno dei posti che ti ispira più vibes autunnali, New York. Anche se non so quanto la troverò già autunnale o meno. Dipende sempre se arriva il primo freddo o le prime piogge. Da quello che ho visto dal meteo dovrebbe essere arrivato. Siamo anche diversi influencer nei negozi già pieni di cose di Halloween. Però più nelle parti esterne a una città come New York. 24 ore solo di trucchi vestiti, cib, colori autunnali. Oddio, questo è fighissimo. Sto facendo screen su screen, mi sta dando un botto di belle idee. Però come mi ha detto prima la ragazza che è appunto... Danny, non voglio mettere troppe cose però sto facendo le screen e poi decido cosa mettere tra queste. Gardaland in autunno è stupendo. Oddio, mi sta facendo venire una voglia. Una ragazza mi ha mandato addirittura la foto. Che bella così, bellissima, con tutte le cose disegnate. Nel mentre che ci penso, oggi vado a fare una cosa. Abbastanza autunnale, legata comunque alle ricette che cominciano ad essere autunnali. E può essere una cosa carina, comunque super così di compagnia. Mi piace tanto vedere anche le persone che cucinano nel loro vlog. E magari un'idea. È un piatto sicuramente transitioning verso l'autunno. E sto parlando di una torta rustica salata. Io ieri mi sono portata già avanti e ho bollito un pochino le patate. Adesso vado a cucinare anche i funghi champignon che metterò sempre insieme alle patate dentro la torta salata. E per la prima volta, invece di prendere la pasta sfoglia, ho preso la pasta brisè. Spero possa venire una cosa carina. Vado a cercarmi qualche ricetta e vi dico. Mamma mia raga, oggi fa caldissimo. Certo che se avessi beccato oggi la giornata un po' freschetta, sarebbe stato perfetto. Ma non fa niente. Ho messo la base della nostra pasta brisè qui. E le patate ho deciso di non schiacciarle tutte quante, ma di farle a fettine. E le ho messe anche in pedale assieme ai funghi, così prendono un po' di sapore. E veniva proprio un odorino autunnale. Perché funghi e patate comunque sono delle cose molto autunnali. In più c'è aggiunto della noce moscata, che mi piace tantissimo. E se riesco a metterla in una preparazione perché ci sta bene di sapore, io ce la metto. Poi ho visto su internet che tanti mettono la panna. E siccome io ho una besciamella da finire proprio, perché scadenza è tipo preferibilmente entro ed è passata. Però sappiate che quando c'è scritto preferibilmente potete utilizzare quel prodotto anche un pochino dopo la sua scadenza. Quindi per non buttarlo e non sprecarlo. Ho pensato di, invece della panna, di provare a mischiare funghi patate e besciamella. Questi sono i nostri funghi e patate. Ma forse posso metterne anche di più. Mamma che buoni odori che arrivano. Voi mi chiederete, ma le quantità? Raga, nella mia cucina non esistono le quantità. No, poi quando devo condividere una ricetta mi segno tutto quello che faccio. Ma io modifico, sperimento, eccetera, eccetera, sempre. Quindi sono andata a occhio. Le patate sono quelle che avete visto. E cioè, mi va sempre di culo perché è perfetto. Questa è una torta russica che lascerò aperta. Prima volta che uso la pasta a brise vediamo com'è. E forse posso vedere la grammatura dei funghi. I funghi erano 300 grammi. E sono indeciso se fare un ultimo strato di besciamella più parmigiano. Un po' insieme lasagna o solo parmigiano. Chiederò a Nicola. Rinin, consiglio! Se ce lo riesci a fare è poco poco poco, ma non come strato. Giusto altro pochettino più parmigiano. Ok, dici poco poco. Tocca qua con la cosa tocca. Cosa ti tocca? Per capire quanto è liquido adesso. Allora altro poco 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 ci sta, ma non è il mio strato intero. Prendo il mio pennellino e spionnello un po'. Parmigiano. E adesso arriccio gli angolini. 30-40 minuti almeno a 180 gradi. Quindi lo metto per 30 minuti e lo guardo. Adesso la metto da parte perché a breve andrà in forno. Ah, subito! Bene! Vado a metterlo in forno. Ma volevo farvi vedere che ieri mi sono ingegnata e ho fatto la moussakaso. Questa la voglio chiamare così. Avevo voglia di moussaka che ho mangiato l'anno scorso a Santorini, in Grecia ovviamente. E quindi ieri ho detto ma sai guardo un po' di ricette, faccio un mix di tutte le ricette e vedo come piace più secondo me per farla simile a come l'ho mangiata. Quindi qui sotto, se volete saperlo anche perché secondo me è un piatto buonissimo per l'autunno, c'è uno strato di melanzane fritte alla base, uno strato di ragù, melanzane fritte e di nuovo ragù. È un mix tra lasagna e parmigiana ma greco style. Quindi melanzane, ragù, melanzane, ragù e infine uno strato di besciamella che però ho voluto provare in versione super greca perché ho trovato una chef greca che diceva che mischia all'interno insieme alla besciamella che ho fatto in casa però questa qui non era quella già pronta. Ci ho messo lo yogurt, quindi l'ho meschiata anch'io, ovviamente noce moscata, le varie spezie, ci ho messo anche un po' di cannella nel preparato della carne del ragù, ci ho messo un po' di pepe e poi mettono alcuni anche l'anice stellato. Io non l'ho messo perché in casa non piace, però mi mancava il parmigiano per fare l'ultimo strato. Quindi adesso ce lo metto così vado a cuocere anche la moussaka. Deve andare sempre in forno. Ecco qui, quanto odio questi pezzi enormi, naga vi giuro. Non so se avete mai mangiato la moussaka, ma vi giuro se andate in Grecia provatela. Non tutti la faranno buonissimo, però se trovate uno con la fabbuona è una delle cose più buone e semplici da ricreare che ci sono, oppure fatevela direttamente a casa. Tanti hanno la versione anche con le patate, poi dipende in che parte della Grecia andate, però mi è piaciuto così, senza patate, l'ho voluta ricreare così. Avevo dimenticato che sopra la moussaka, oltre la besciamella e il parmigiano, ci manca un po' di pangrattato, ecco anche perché è così croccante, quindi ce l'ho aggiunto un minuto dopo essere partito il timer per i 30 minuti. Invece che cretina mi sono ricordata adesso, ovviamente avrendo il frigo e vedendoli, che avevo messo da parte i fagiolini che erano rimasti da quelli che ho fatto ieri, per metterli assieme alle patate e ai funghi nella torta rustica a pezzettini. Era un buon modo per non sprecarli e vabbè, li mangeremo domani a pranzo, è tipo il termine ultimo per mangiarli, però sarebbe stato carino metterli nella torta, ma vabbè. Ma guardate che meraviglia, sono venute bellissime e secondo me anche super croccanti. Dobbiamo dare ovviamente il tempo di asciugare, perché adesso sono ancora molto calde, però la crosticina promette veramente bene, la pasta brisee si è ben cotta, la moussaka sembra ok, adesso il forno... Sì sì, questa è crema catalana, paese. Adesso il forno è spento da un bel po', li lasciamo ancora qui dentro, perché stasera non ceneremo a casa. Ma come, dopo tutto la fatica che hai fatto per preparare queste buonissime cose, non le mangiate stasera no, perché siamo a cena. Se avete visto il suo video sicuramente già lo saprete, il suo intendo di Deborah. E se invece mi state iniziando a seguire adesso... Benvenuti, la mia migliore amica si chiama Deborah e anche lei lavora qui su YouTube, sui social, quindi ha già pubblicato il video dove ha detto questa cosa, dove ha dato l'annuncio, ma il suo ragazzo passerà tre mesi fuori per lavoro e lavoro e studio, e quindi oggi andiamo a salutarlo. Facciamo una cenetta e per dargli, per augurargli buona fortuna, insomma. Mi sono anche proposta di portare la mia torta salata, però Deborah sta mangiando tutto senza glutine, quindi evitiamo. Ordiniamo direttamente da qualche posto. Allora, la mia linea prima di guidare è sempre... Ma ma devo girare là? Sì. Ma tu non mi hai detto? Lo giro qua a sinistra. Ma dritta? Sì. A sinistra, a sinistra, vuol dire a sinistra, perché dritta? Non so dove mi partirò questa strada. Voglio vedere pure se è chiuso quel negozio animale, non mi ha più risposto quello su WhatsApp. Non era questo? Lo faccio divantare. Oddio, dove siamo, amore? Dove sono una strada sconosciuta? Non so questa strada. Dobbiamo decidere se portare il gelato o se è una cosa... Guarda, guarda che curva, patti. Dico, se vuoi ti posso insegnare quando vuoi. Comunque, devo decidere se il gelato è troppo estivo. Siamo in estate. Momentalmente non ci siamo più. Siamo avanti. Mi importa il panettone, guarda. Il panettone è troppo avanti. Dove andiamo? Dove andiamo? Secondo me, Buddy lo sa. Eh, Buddy? Buddy. Lui già sa. Lui già sa. Alla fine mi sono resa il gelato. E qui abbiamo anche un aperitif organizzato per noi con lo sprizzino, che non ho ancora assaggiato questo qua. Ah, però soda. Questo è tipo quello leggero, è super buono. Se non vi piace troppo l'alcol. Questo tipo con le bottiglie lo prepariamo, no? No, ne abbiamo preso anche lo sprizzino. No, con le bottiglie. Non lo so. Ce ne si può. Poi abbiamo Buddy, che sta inculando il Vigage. E' molto felice di questa cosa. Poi abbiamo i due gattoni. Uno nascosto sotto il divano. E l'altra nascosta in giro per la casa. Eccola! Ciao, mini! Ciao! E' arrivato il cibo. Abbiamo ordinato in due posti diversi. Io e Debs abbiamo preso dei bei panini. Debs era preso senza glutine, perché in questo posto fanno anche pane senza glutine. Io invece ho provato, credo sia un uovo, perché abbiamo ordinato spesso da qui, ma non ho mai trovato questo qui. Che ha tipo il pollo marinato allo yogurt. Beh, si vede soltanto lo yogurt. Però sembra molto carino. E poi abbiamo preso anche questi, che li prendiamo sempre. E sono i Chili Cheese Bites. Ovvero, qui dentro c'è tipo formaggio e calapegno. Ed è la prima cosa piccante che mangio da, credo, 10 giorni. Oh, ecco il gelatino che abbiamo preso. Nel frattempo, ragazzi, siamo andati in fissa con Casa Prima Vista. Perché loro hanno Discovery Plus e quindi possiamo vedere tutte le puntate che vogliamo. Mentre noi a casa non ce le abbiamo e dobbiamo beccare su Real Time le puntate su Roma e i dintorni. E non le becchiamo mai. Quindi adesso le stiamo recuperando. E guardate che carini che sono questi, così. E questi veri Nicola e Pia. Troppo carini. Abbiamo preso ovviamente anche la panna, abbiamo preso un po' di coletti. Eh? Sì, certo. Mentre ci salutiamo, dimmi un bel punto per la full bagatrice. Andare a un parco divertimenti qui a Roma. A Roma? Sì. No, scusa, qui in Italia. Ok, ok. E' anche una di quelle cose che mi hanno consigliato. Ho detto tipo, Gardaland in autunno è stupendo. Eh, sì, una cosa del genere. Gardaland, Mirabilandia, vediamo. Oh bene, amica. Ovviamente io sono altra invitata. Ovvio, anche se è il tuo punto e io vengo. Of course. Buonanotte, amica. Ciao, amica. Buongiorno, eccomi tornata qui. Devo dire che con questa luce mi rendo veramente conto. Mi avete già scritto su Instagram, in risposta alle storie, che i miei capelli sono chiarissimi. Facendomi anche dei complimenti, tipo, ti stanno molto bene. I don't think I'm gonna keep them like that. Mi sembrano molto caldi, il che con l'abbronzatura che ancora ho, miracolosamente, visto che non mi sono goduta neanche due giorni di mare, forse stanno anche bene, però appena andrà via, secondo me saranno veramente troppo caldi, quindi penso di tonalizzarli prima di partire per New York. Faccio una cazzata? Sono molto carini? Non lo so, ci sono anche abbastanza autunnali così. Non lo so, sono abbastanza indecisa. Vedremo. Comunque, ieri ho cucinato appunto la torta rustica autunnale con patate, funghi e besciamella e oggi la testiamo insieme e vediamo com'è venuta. In più ho cucinato anche la moussaka, però oggi non la mangio, visto che sono sola e mangerò semplicemente la torta rustica autunnale. Dopo devo anche portare Buddy a fare la toiletta. Devo assolutamente concludere la mia full bucket list oggi, che poi ho talmente manifestato ieri questo autunno, 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 che oggi, primo giorno di pioggia a Roma, mentre sono andata stamattina a fare la visita, tra l'altro dopo devo anche andare in farmacia e prendere le medicine, vabbè, e guidavo, ho visto tantissimi alberi, tantissima vegetazione proprio, che comincia ad essere più arancione, con quelle sfumature beige, gialline, marroni, e io amo tutto ciò. Ho visto anche le prime foglie scrocchierelle per terra, c'era il venticello che comincia ad essere fresco, è veramente bella l'aria che si respira. Io amo quest'aria, quindi io sono contenta. E fatemi sapere come domanda misteri di questo video, qual è la vostra stagione preferita e soprattutto come vi relazionate con l'autunno, con l'inizio dell'autunno. Se per voi, come me, è l'inizio di un qualcosa di bellissimo, oppure se è proprio una cosa che vi porta via il periodo più bello dell'anno e se soprattutto avete cambiato idea al corso della vita, quindi magari quando eravate piccoli l'adoravate, adesso no, o viceversa. Vediamo un po' nei commenti con hashtag domanda misteri. Più tardi vi farò vedere anche i primi arrivi, perché io ho già quest'estate fatto qualche ordine su Amazon e non solo, e vi voglio far vedere due cose che sono arrivate, e secondo me una potrebbe andare sold out subito o talmente rapidamente che se la volete ve la faccio vedere adesso, prima di avvicinarci ad ottobre, perché secondo me non la troverete più. Adesso andiamo a vedere però come è venuta la torta salata. Sapete cosa mi sono resa conto? Non ho per niente piatti autunnali. Quando mangio da sola, prendo i piattini piccoli e mi rendo conto che ho tipo i piatti semplici, piatti particolari presi a Parigi, molto estivi secondo me. Questo forse è l'unico piatto un pochino autunnale, perché è leggermente vicino, cioè con le carote mi ricorda un po' la carrot cake, che è un dolce che mi piace molto in autunno, però forse non è autunnali nemmeno questo. E poi ci sono questi che mi hanno regalato, che ci hanno regalato mia sorella e il ragazzo, quindi già sappiamo una cosa che devo ricercare quest'anno. Ma vi dirò, dopo che l'anno scorso ho fatto un decluttering di tazze, non ho nemmeno così tante tazze autunnali. Ecco qui la torta riscaldata. Sembra molto juicy, cioè non mi sembra venuta affatto secca. Beh, she looks cute dai, non sembra male. E poi mi devo finire i fagiolini, che ho dimenticato di mettere dentro. Ci metto allora un po' di limone. Avevo paura, onestamente si fosse seccata un po', ma per niente. She looks juicy. È molto autunnale, anche dall'odore. Ragazzi è carinissima, veramente carina. E secondo me rendo le patate, ti riempie anche più di quelle magari solo con le verdure. Ora rimetto play al mio video su YouTube. Io immagino che un sacco di persone, mentre guardano i miei video, fanno esattamente la stessa cosa. Tipo qua potreste avere una merenda, un pranzo, una cera, una colazione, e mettete play e vi guardate. Quindi questo è un po' inception. È arrivato il momento, Buddy non è per niente felice. Guardate la sua coda, è giù. Lui è impaurito, ma è arrivato il momento. Appena lasciato Buddy, è stato rapido, ma non in dolore, perché lui odia. Odia, odia la tua letta, non è per niente un barboncino vanitoso, al quale piace essere pulito, pettinato, l'infiocchettava, l'improfumato, niente. E ogni volta è una tortura. Almeno oggi lo andrò a riprendere io, perché l'ultima volta che l'ho lasciato è venuto a riprenderlo Nicola. Lui l'ha vissuta come io l'ho portato qui e il papà mi ha salvato. E tutta la giornata non mi aveva parlato, cioè non mi guardava, non voleva le mie coccole. Adesso però scappo a casa, così finisco di montare un video che voi avrete già visto per il tour del beauty office che deve uscire, ma è bello lungo, vorrei cercare di non farlo di troppi minuti, perché non è un vlog, però sapete, deformazione professionale, i miei video sono sempre lunghi, mi piace chiacchierare, però magari prima di mettermi al montaggio vi faccio vedere le cose che vi dicevo che sono arrivate. Ok, eccomi qui per aprire i pacchi. Delle varie cose che ho ordinato le sono arrivate per ora due. Quest'anno ho deciso di decorare la mia casa più che a tema autunno, a tema Halloween. Quindi sarà sia autunnale, ma avrà tanti elementi comunque alluminosi e qui ne sono già arrivati alcuni. Quest'anno fuori la porta sarà questa. Molto carina, eh? Mi piace un sacco. Questo è proprio uno spoiler per chi è arrivato alla fine del video, ma tutte queste cose poi le rivedremo nei momenti a cui le andrò a montare per casa, perché io ve lo dico ho fatto una pazzia quest'anno, ho fatto una pazzia che non è ancora arrivata perché altrimenti si vedrebbe. Ho preso un set di Poof per l'under eye per andare a picchettare la cipra in polvere libera e il contorno occhi in generale per evitare che vada nelle pieghette il correttore mixato alla cipria. Credo che veramente come tecnica sia una delle migliori che abbiamo provato. Anche di questo se volete vi lascio l'ink perché era il set più conveniente che ho trovato. Questi secondo me sulla libreria saranno stupendi. Sono tre. Questa è la base e qui sopra invece ci va il cero che si può mettere nero, bianco di qualsiasi colore e se volete vedere anche com'è tutto quanto montato il set al link che vi lascio giù nell'info box si vede e io come l'ho visto ho pensato no vabbè nella libreria stanno troppo belle cioè dei complimenti del Redo molto carini delle decorazioni molto carine e non per forza creepy però che aggiungono un po' di tocco halloweenoso alle decorazioni autunnali. Ah ok no questo è un'altra cosa non c'entra niente Halloween non fa parte di questi video ma farà parte di un altro video e rimane l'altro pacco me l'aspettavo molto più grande questo è il kit delle candele sospese me l'aspettavo molto più grande me l'aspettavo molto più in stile Harry Potter piuttosto che Galassia ma ok non fa niente dovrebbero esserci dentro 20 candele ma una ragazza l'ho come detto che ne ha trovate 12 vediamo quante ne trovo io no vabbè la bacchetta con i tasti accendi e spegni che vi permetteranno di accendere e spegnere le candele ovviamente niente fuoco involved e le candele sono queste che hanno già attaccato un filo completamente trasparente è un filo diciamo da pesca e quindi sembreranno sospese nell'aria sembra che sembrerà che nulla le stia tenendo e si accendono nella parte superiore mentre sotto c'è l'ingresso per le batterie che dovete comprare voi a parte questo anche viene detto eccole sotto 13 14 15 16 17 18 19 20 si la ragazza che ne ha contate di meno probabilmente non ha alzato l'ultimo strato vi lascio qui il video per farvi vedere l'effetto che danno una volta attaccate ovviamente se in casa avete tipo un camino è la cosa perfetta io ho pensato di metterle qui attorno alla libreria perché comunque l'avrebbe resa molto magica ma avrei dovuto appenderle al muro con qualcosa di adesivo loro ti danno questi che tu attacchi da un lato alla candela e dall'altro è proprio ha un adesivo forte per il muro il problema è che non essendo casa mia non mi va di eventualmente rovinare il muro e doverlo ristuccare perché magari si porta via una parte di intonaco e se le mettessi nel mio sfondo del beauty office perché lì con le altalene sicuramente ho più modo di attaccare le candele con qualsiasi cosa tanto non importa perché nel video non si vedrà si vedranno direttamente le candele dietro di me e spero che vengano a casa figa e che renda e non vedo l'ora di montarle veramente eccolo qui l'amore della mamma che hanno fatto le zampe cioè proprio tipo super fluffose e il corpo più piccolino fai mi vedere cioè sei stupendo l'amore della mamma però mi sembrano tanto fluffose queste zampe rispetto al corpo salute sì ti sei bagnato perché sta piovendo un po' fuori il musetto è stupendo lo amo buddy sei bellissimo tu sei sempre bellissimo sto musetto orsetto mi fa impazzire ora mamma sei stupendo però sei il corpo un po' weird cioè sei molto coreano ti hanno fatto un cane coreano ho detto tu sei bello in qualsiasi modo piccolino piccolo non essere arrabbiato con la mamma andiamo a finire la full bucket list hola eccomi a new york sono con mia sorella perché appunto vi lascio qui sotto nell'info box il link del video dove le ho regalato il viaggio a new york che però stiamo e sta riscattando adesso le ho regalato per la laurea era ottobre 2022 quindi è passato quasi un anno negli ultimi giorni ho completato la full bucket list ho aggiunto tutte le cose che volevo aggiungere e vi lascio qua la lista completa ho messo anche una sacra autunnale perché è una cosa che non ho mai fatto e un consiglio che mi avete dato e me ne sono salvati talmente tanti che è stato veramente difficile scegliere però alla fine ce l'ho fatta e niente mi sembrava bellissimo salutarvi da qui perché penso sia una delle città più belle al mondo per l'autunno qui c'è già tutto a tema autunnale tutto pumpkin spice tutti addobbi si addobbi c'è chi ha messo già le ghirlande e è solo il primo giorno che siamo qua e io sono già innamorata molto molto contenta siamo andate anche da Magnolia Bakery abbiamo preso la cena letteralmente si mangeremo stasera ceniamo col dolce così e anche lì ci sono delle cose speciali in edizione limitata con la zucca con le spezie autunnali quindi non potrei essere più felice ovviamente sto vloggando quindi lasciate un like per guardare cioè se volete vedere insomma tantissimi video e vlog da New York di me anche che video magari potrei fare qui oltre i vlog grazie mille per aver guardato questo video vi mando un super bacio vi aspetto come al solito su Instagram e TikTok vi lascio qui accanto dei video che magari se non avete visto potete recuperare iscrivetevi al canale per arrivare a 400.000 e noi ci vediamo al prossimo video bye ladies see you soon ciao